Non solo lo scontro al vertice a tenere banco nel girone H di Serie D, ma anche la complicata corsa salvezza che chiama in causa tre squadre pugliesi. Fasano, Gravina e Brindisi sono in lotta per la permanenza in quarta serie, con sorti opposte ma anche con posizioni ben diverse in classifica, quando mancano cinque giornate al termine della stagione regolare. Vantaggio concreto quello del Fasano, che con la vittoria di domenica contro l'Altamura legittima il suo piazzamento al di fuori della zona play-out. Sono quattro i punti di vantaggio sul sest'ultimo posto, attualmente occupato dalla Versa. La squadra di Costantini nelle ultime dieci giornate ha raccolto 16 punti, un ruolino praticamente da play-off. Meglio dei bianco-blu hanno fatto soltanto Picerno, Taranto, Cerignola e Lavello. Negli ultimi cinque turni di campionato il Fasano può chiudere i conti pur con un calendario sfavorevole. Lavello, Cerignola e Bitonto in trasferta, Francavilla in signa e Picerno in casa. Da questa tabella di marcia può però attraere beneficio il Gravina, che adesso comincia a vedere gli effetti positivi della cura de Candia. Il tecnico Molfettese, riduce proprio dal successo per 2-0 contro la squadra della sua città, ha allontanato i murgiani dalla zona retrocessione diretta, puntando verso una salvezza distante sei lunghezze. Nel mirino dei giallo-blu c'è proprio il Fasano, con cui ha anche gli scontri diretti a favore. Davanti però c'è anche la Versa, avversario che si può scavalcare nonostante un calendario molto simile a quello del Fasano. Cerignola, Bitonto e Picerno in trasferta, mentre al vicino sono attese Lavello e Sorrento. Situazione decisamente più complicata per il Brindisi, scivolato adesso in zona retrocessione diretta. Penultimo posto per i Messapici, che devono però recuperare il match casalingo contro il Cerignola. La squadra di Cazzarò, in caso di vittoria contro gli Ofantini, staccherebbe il Portici e tornerebbe in zona play-out, agganciando anche Gravina e Francavilla. Dei tre calendari, quello del Brindisi sembra quello più agevole. Trasferta a Sorrento prima del match in casa col Picerno, poi scontro diretto sul campo della Putiolana, match al Capozza contro un Casarano in caduta libera e chiusura di stagione proprio contro il Portici al Fanuzzi. Il discorso salvezza rimarrà apertissimo fino al 13 giugno.